Sono Raygaming e oggi siamo di nuovo su Among Us Allora ragazzi, vi dobbiamo portare il nuovo Among Us Online Entriamo su Human da casa, ecco qua Questo non mi può entrare, no, per canzi E il fomentro Ok Uff, ero appena ce l'ho fatta ragazzi Allora Mettiamoci questo Mi scrivo start così Start Ok, si stanno portando Vai, ti prego ragazzi Impostore, 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 impostore Impostore, impostore Troppo forte Impostore E per chi dice che ho le hack Non ho le hack Ragazzi Potete comunque trollare Non ho le hack Allora, però è un po' troppo veloce Cioè, né troppo lento Né troppo veloce Devono essere partiti da Among Us Che sono qua, Armand Oh, sei solo soletto Mico Ma Non ha ammazzato nessuno Dai Dai, volevo ucciderlo Ho detto a rompere Colore white Colore bianco Ma non ho anche dato Impostore? Ragazzi Ragazzi, no, no Ragazzi, giuro Sembra che ho le hack Ma non ho le hack C'è sempre impostore Ho già registrato No, ho scoperto registrare I video di Among Us La sera E mi città Se siete negli youtube Però comunque fatevi to su youtube O registrati i video di Among Us La sera Eh, portafortuna Ok Dove col bianco Black Così C'è sempre no ma come si fa vabbè raga usciamo tanto non vorrei questo colore non è possibile che abbiamo i postoni infatti non lo so allora domani continuerò stavolta promesso l'altra volta non ho potuto registrare mi dispiace fatto in maniera con questo questa suspense ah no mi puoi porto io ma io porco schivo porco schivo porco schivo color with please 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 andiamo al mondo cremate no problem siamo solo cremate ah no ma perca ho un'ansia quando lo metto il mentore ho un paura fanno gli altri vado a fare i scudi ehm raga è successo talmente velocemente che non so chi è stato posso dirvi la verità è black black green lime no black keep come si è messo a voi che cazzo che cazzo che cazzo eh era lì comunque l'avevo visto bene che era morto ma dai raga esco perché tre impostori non mi piacciono questo qua voglio solo un po' l'impostore ok vabbè mi chiamo da qui tanto non per me però ragazzi in un'altra in un'altra vabbè in un'altra 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 no 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 color blu color white please color Sì, sì, sì. dai start un po di rispetto che sto facendo un video mamma mia dai vorrei fare lo start lo stanno facendo start provo lo start boh raga io esco posto non mi fa entrare lei era preso a cavolo no oh 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 il primo colpo allora ragazzi siamo ancora qualcosa magari devo uscire perché vado da un mio amico ok ragazzi allora siamo tornati no comunque a fine il mio amico non è più arrivato pensavo che arrivasse su among us ma non è più venuto e quindi allora continuiamo da soli ok ragazzi partiamo passate proprio nel suo canale fate proprio quello che volete si chiama gabby 15 bit ma iscrivetevi anche al mio giustamente e attivate la campanella se non vi perdete video e lasciate like e sono morto con un pirna ma un po gigante un pirna gigante abbiamo finito già 10 minuti ma in così tempo questo tipo passa così color white ragazzi è questo a questo aspetto che arriva una persona giustamente io devo farvi vedere le partite bene ragazzi ti prego impostore e vabbè allora facciamoci le nostre tasche squadra bellissima allora ok fare il piccolo chimico oh ok finito no si è pagata la tasca allora quella la non la farò vado io ho oxigen o2 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 e cosa che ti dico io schifo ed era lui come no io non l'ho votato sinceramente non lo sapevo vediamo un po' come vanno le cose sto vicino all'ecco vediamo un po' rischio a fare qualcosa è simile è sì secondo me è il bianco che mi metti a smitten se vuoi se vuoi se poi un vecchio spazio era lui no no non ci credo io ho detto è il bianco ma poi io ho detto no non può essere bianco e quindi è per forza dark green verde scuro io ho votato il bianco perché ho fatto una ragione ho detto il bianco non è mai stato ucciso sono morti tutti tranne il bianco ho detto o l'impostore stupido da ucciderlo o è lei perché in queste cose sono vanissa e quindi fate questo ragionamento e quindi ho detto sarà il bianco ma poi ho deciso di votare il verde perché mi sentivo che ho il verde ma se mi votavo il bianco vado il bianco spero di essere l'impostore che votavo il claim ma sono giocato bene ho fatto tante task però per l'ultimo di nuovo claimant oh ma già luce spente qualche hacker già luce spente signori già siamo a luce spenti signori già allora andiamo a fare qualche task a luce di candela qua in questo caso di lampadina che ho in testa perché non so come sto facendo luce in elettrica ci sono sempre cose da fare tipo questo che ora devo andare a fare una merda non è più grave sta roba no non è grave però mi ha chiamato le manager di meeting e io dico wow perché non ho veramente l'idea di chi si anche se secondo me è di nuovo il bianco ma sono impressioni ah ma io so blu blu e si ok via fuori se ora non sei tu guarda ok allora non è lei ah 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 penso che lei mi ha un po' accusato di una vita a cavolo perché non mi sarei mai aspettato di una vita a cavolo era brown era brown prendi bianco per favore dammi il colore bianco ma lei se vuoi dammi cosa bianco ok bianco perfetto si si parti sei andato così a cavolo era ancora maestro e poi per chi dice non so penso nessuno di voi però per chi pensa di io adesso non lo so mai c'è sempre grey mate storie ok allora ci vedete allora che non sono io ecco come mi c'è un gioco allora chi era e qui left game ok allora nessuno ha sospetto di me la sera big salame mi arrabbio e invece il blu aveva ragione era il rosso confio allora facciamoci l'ultimo anche se vorrei fare tipo in finita stiamo in casa stavano i giochi divertenti penso no già vedete io sto dando 22 minuti non so che avrà tanta pazienza di guardarsi in 22 minuti spero tanti raga dai fatemi arrivare a 10 iscritti che poi farò un mega speciale di 10 iscritti sono arrivati a 6 6 6 ragazzi 6 iscritti 3 ok dai entra qualcun altro e vado faccio partire la partita anche 4 va bene qualcun altro qualcun altro qualcun altro grande big salame salame un posto dai guarda non esce una giusta senti io esco no 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 c'è l'ultimo vorrei farla un posto non esce una giusta una una non me ne vedeci una ora ora un posto per favore no c'è l'ultimo vorrei farla dai un posto si star poche volte siamo stati un po' soli ok ti prego un posto se non mi tocco un'altra volta ragazzi non esce non esce se tu mi dici che devo fare oggi non devo farmi un posto mi dici raga non posso puntare su con noi allora mi spiace ci salutiamo qua ciao e alla prossima